recensione del lumia 950 avevamo recensito il fratello maggiore l'xl adesso recensiamo il modello più economico più piccolo direi che personalmente vi dirò quella fine mi è piaciuto anche rispetto alla versione xl l'avevamo in colorazione bianca questo in colorazione nera tanto per cambiare molto bello e qualità della cover policarbonato abbastanza buona ma non è che piacciono tantissimo sono anche abbastanza scivolose come potete vedere però dai è fatta bene si può sostituire e removibile cover batteria removibile sotto troviamo gli slot per la micro sd e nano sim si può sostituire con una bellissima cover mozzo ad esempio quindi è un problema solo relativo allora le dimensioni sono appunto abbastanza compatte si riesce a fare quasi tutto con una mano 5.2 pollici schermo qhd siamo sui 560 ppi quindi risoluzione ottima le cornici non sono ottimizzate proprio benissimo come sul fratello maggiore l'xl ma sono comunque ottimizzate bene infatti se li vedete non c'è tanta differenza dimensionale fra i due questa che vedete qui è la schermata glance è la diciamo la risposta di microsoft a led di notifica c'è un led di notifica sui lumia se questa schermata che permette di adesso non ce ne sono di vedere apposite notifiche possiamo scegliere quella della posta di whatsapp è configurabile dopo vi farò vedere un po come allora guardiamo un po qui sotto c'è innanzitutto l'uscita usb type c il tasto di scatto e avvio rapido della fotocamera tasto power tasti volume su e giù qui sopra c'è il jack per le cuffie questa non c'è niente come vi ho già detto la batteria removibile la batteria e la cover sono rimovibili si possono sostituire e sotto c'è sono i due slot qui abbiamo la griglia la cassa per lo speaker che è una posizione non proprio felice ma per fortuna come la fotocamera è leggermente rialzata si può non lo tappa troppo quando è appoggiato dopo vedremo un po l'effetto che c'è nella riproduzione musicale andiamo a sbloccare dimenticavo l'avevano già fatto vedere su sull'umia 950 xl ma c'è anche qui windows e lo praticamente sbloccando viene rilevato il sensore dell'iride c'è un sensore appunto qua che individua l'iride funziona abbastanza bene non è comodo come un lettore di impronte digitali ma è comunque una buona alternativa prende anche quando c'è poco diciamo c'è poco luminosità quindi diciamo che è una buona idea alla fine questa che vedete la mia star screen la cosa che mi piace appunto più di windows phone è la home screen la home screen live e sono tantissime live tiles molto configurabile molto bella secondo me la cosa più bella di windows phone qui adesso abbiamo tutte le applicazioni cerca un attimo tenendo premuto sul tasto back si accede a multitasking che accendo ovviamente la verso il basso si può chiudere un'applicazione non c'è il tasto chiudi tutte non è proprio il mio multitasking preferito però decente questo che ci siamo facciamo la prova audio ok dovremmo esserci sull'umia 950 xl l'applicazione della produzione musicale ma ha dato diversi problemi qua per fortuna quegli aggiornamenti software sono stati quasi tutti risolti allora l'audio come avete potuto sentire non viene molto otturato nonostante questa sia una superficie morbida e è alto è indubbiamente alto anche nelle chiamate nelle notifiche e il problema è che la qualità è buona sì ma non ottima non come ci si aspetterebbe da un brand come microsoft da una costruzione nokia e quindi io personalmente come qualità mi aspettavo qualcosina di più per resto comunque è un buonissimo audio di fascia alta lo schermo è uno dei punti di forza come sul 950 xl schermo q hd ma al di là della risoluzione è veramente bello luminosità ottima si vede bene in esterni la riproduzione di colori fedeli bianchi sono molto molto riprodotti molto belli riprodotti bene intanzi tutto vi faccio vedere la sezione delle notifiche dei toggle una cosa che non mi piace di windows phone è che le notifiche quando aperte rimangono qua bisogna sempre chiudere manualmente adesso non le vedete ma è una cosa abbastanza fastidiosa questo è il menu impostazioni che è stato rinnovato diciamo pesantemente rispetto a windows 8.1 ma purtroppo sebbene l'intento era quello di semplificare per me è abbastanza complicato anche soprattutto la 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 possibilità di ricerca delle impostazioni non mi ha aiutato ad esempio io cercavo ho cercato a lungo windows e lo che non mi ricordavo personalmente dove scrivo e lo non lo trovo e questo anche per altre impostazioni quindi è decisamente da migliorare perché le impostazioni sono un po' nascoste non si riesce a trovarle sempre a me personalmente non piace come è impostato questo menu impostazioni perché è veramente bisogna perdere del tempo a cercare quello che si vuole attivare disattivare configurare eccetera queste le impostazioni della schermata glens faccio vedere perché è una delle cose più utili si deve andare in schermata di blocco quindi che da tutt'altra parte ve lo dico da tutt'altra parte per impostare ad esempio l'app per vedere dettagli xbox playstation whatsapp quindi c'è una vasta scelta qui si possono anche aggiungere quindi ecco sotto opzioni di accesso l'ho trovata dopo non so quanto tempo perché non mi ricordavo dove era c'è windows e lo che ovviamente prima di attivare bisogna aggiungere un pin però giusto per farvi capire quanto fosse difficile trovare certe opzioni in questo menu dopo ci sono diverse personalizzazioni si possono disattivare i feedback di vibrazione per i tasti soft qua c'è la ricerca con cortana che però va impostata cortana va molto bene funziona bene come navigatore qua si può impostare la ricerca e anche la universale funzionava bene si può impostare su quali app cercare ad esempio trovo quella della musica lo provo a fare una ricerca musica adesso non trovo l'app della musica ma sicuramente c'è l'opzione per cercare anche tra le canzoni allora chiudi per il resto parliamo di autonomia autonomia 3000 mh di batteria rimovibile può essere all'occorrenza anche sostituita proprio al v sei al volo diciamo non proprio la batteria si comporta bene non è niente di eccezionale qua su windows phone non si possono vedere le ore di schermo acceso e dovremmo stare più o meno sulle quattro e mezza cinque con il mio solito uso almeno la previsione che ho fatto io e quindi una batteria buona non ottima comunque regge bene sono delle volte in cui sembra consumare sembra scendere abbastanza velocemente sia in stand by che in uso quindi non so dopo è un po particolare ma comunque a fine giornata vi porta al 90 per cento delle volte difficile rimanere a secco di batteria durante la vostra giornata tipo allora parliamo di un altro punto forte diciamo forse il punto di maggior interesse per questo device qui da categoria lumia ovvero le foto le foto sono indubbiamente le migliori attualmente sul mercato sono veramente ottime scatto è veloce la qualità è incredibile è veramente incredibile per queste foto qui veramente una fotocamera degna di nota comodo anche il tasto qui dedicato per lo scatto anche sui sony anche su altri device ma è veramente veramente comodo le impostazioni non sono tantissime le vedete qui sopra sono un po pochine avevo già segnalato anche sul lumia 950 xl vista la qualità della dell'ottica messa abbiamo una 20 megapixel con ottica stabilizzata e che fa come vi ho detto le foto i video migliori attualmente il panorama mobile se si poteva aspettare magari un po più di di impostazioni del software così filtri eccetera che purtroppo realmente non ci sono infatti abbastanza limitato scusate sbagliato comunque foto veramente ottime come dettaglio come presa del panorama come bilanciamento della scena tra parti scure e parte chiare quindi se se le foto sono diciamo una vostra priorità sicuramente con questo tenete il massimo con questo telefono e il suo ovviamente suo fratello maggiore 950 xl allora per il resto ricezione ottima nessun problema non ho segnalato nessun problema mi ha preso anche mi ha preso bene anche nei punti critici a parte una volta che ho perso il segnale ma ero in autostrada continuo cambio di celle quindi capita molto spesso non lo non lo terra in conto quindi ricezione veramente buona cosa cosa non mi piace vi chiederete non mi piace personalmente il sistema operativo non mi ci trovo giornalmente a usarlo con il mio uso sarà per le app che per come sono impostate non mi non mi sembrano ancora molto funzionali ci sono è perché come vedete adesso sto scrivendo quelle che uso io di più ci sono praticamente tutte non è che mancano le app non ci sono tutte ma comunque siano ufficiali non siano ufficiali e le app non mancano allo stato attuale però boh l'utilizzo ma anche il sistema operativo in sé ad esempio anche il dialer non mi piace il tirino telefonico purtroppo non mi ci trovo bene con questo sistema operativo è migliorato rispetto alle versioni precedenti io testo praticamente windows phone un paio di volte all'anno dal 2010 in poi c'ha tante possibili potenzialità ma ancora per me come si può dire non ci siamo questa è la modalità l'utilizzo una sola mano mi ha dimenticato di farvela vedere ecco qua quindi come dire se vi piace se vi piace il sistema operativo windows windows phone 10 sicuramente è il telefono che fa per voi perché è completo funziona molto bene ben bilanciato però se vi dovete trovare bene anche il sistema operativo perché quello che fa girare un po il tutto alla fine per il resto nient'altro da aggiungere un ottimo device io personalmente lo preferisco al 950 xl perché alla fine stesso nonostante il processore sia l'808 non l'810 che se sul 950 xl gira comunque benissimo e a me piace perché un po più che è un po più compatto si tiene meglio si usa meglio con una mano quindi per me è assolutamente promosso veramente un bel telefono è un ottimo lumia